È arrivato appunto qualche ora fa l'emendamento di Gatti che conferma quelli che sono le mie preoccupazioni. Praticamente un emendamento che autorizza e favorisce la possibilità di disboscare delle aree ai fini sanitari senza avere appunto sul groppone gli oneri compensativi. Tutto ciò che vuol dire l'ennesima prova sul mio grande timore per quello che sto registrando in questi giorni appunto in commissione. Ho ragione di credere che Marsiglio, Larossi, Gatti hanno in mente di spendere i 140 milioni di euro trovati da D'Alfonso e dal sottoscritto per fare una sorta di mini ospedale, non so come definirlo, qui attorno, qui vicino alla pineta che è alle nostre spalle per appunto lavarsi la faccia, per fare dieci anni di campagna elettorale, dire che si è fatto qualcosa ma sappiamo bene che noi abbiamo bisogno di un ospedale di livello, abbiamo bisogno di un ospedale che sappia dare delle risposte ai cittadini, ai malati, ai pazienti, quindi fare questo vuol dire sperperare il denaro pubblico, semplicemente dire che si è fatto qualcosa, io questo lo impedirò con tutte le mie forze. Io mi auguro che non avvenga nei prossimi giorni una conferenza stampa che assomiglia ad una pagliacciata. Spesso il Presidente della Regione ha fatto pagliacciate, i fatti mi hanno dato ragione, non c'è la posa della prima pietra per l'ospedale, cosa che lui mi aveva detto all'inizio della scorsa registratura, non c'è assolutamente la terza corsia della 14, quindi di conseguenza le bugie continuano e replicano. Quindi io su questo darò battaglia e mi auguro di sbagliarmi, lo dico per i cittadini abruzzesi. L'area è stata individuata, questa è una grande scusa utilizzata, perché sanno tutti che se non fosse stata approvata la rete ospedaliera come poi è stata in Regione non potevano individuare l'area, non potevi costruire assolutamente nulla, quindi facciamola finita nel dire che la colpa, forse l'ho detto anche altre volte, che avrà tante colpe il Sindaco di Turamo, sicuramente non quello della scelta del luogo, dell'ospedale, perché dipendeva dalla rete ospedaliera in Regione, l'hanno detto anche loro. Quindi facciamola finita a creare mistificazioni e a dire bugie. L'area è stata individuata, è quella del Mazzini, ci devono dire semplicemente se è possibile o meno costruire, lo dicono i tecnici, perché non ci sostituiamo i tecnici noi, un ospedale qui, ma non un ospedaletto, non un ospedale delle barbi, noi abbiamo bisogno di un ospedale vero, se qualcuno pensa di depotenziare ancora di più la sanità teramana per rendere sempre più potente, probabilmente una sanità pescarese, è una scelta, io non dico che non la condividi, però diteci che ci dobbiamo curare a Pescara, non più qui, ce lo dovete dire, il coraggio di fare le scelte. Siamo chiamati oggi da amministratori a fare le scelte, si chiama responsabilità, si chiama autorevolezza, che un amministratore deve assolutamente avere, basta con le bugie, basta con perdere tempo e buttare fumo negli occhi alla gente, quindi vedremo, spero di sbagliarmi, sicuramente non ci sarà nessuna conferenza stampa da parte di questa maggioranza regionale e non accadrà nulla di tutto quello che ho detto e su questo naturalmente il più felice sarò io di essermi sbagliato, ma in caso contrario purtroppo ancora una volta avrò ragione io, purtroppo per gli abruzzesi, come il buco sulla sanità che dicevano che non era altro che una mia azione di sciacallaggio comunicativo politico, in realtà poi mi hanno dovuto dare ragione.